Il ministro D'Urso è ottimista, inizieranno già da questa settimana le visite agli stabilimenti ex ILVA da parte di gruppi industriali interessati e lo faranno a partire da Novi Ligure, Genova, per poi arrivare anche alla casa madre italiana di Taranto. I punti interrogativi ed il condizionale in questo caso sono d'obbligo, dal momento che le notizie non sono per nulla certe si tratta solo di indiscrezioni. Non c'è nulla di ufficiale, infatti i sindacati ne sanno poco e tanto meno il sindaco di Novi, ma sembra che domani, 4 giugno, un gruppo industriale indiano, e precisamente la Jindal, visiterà gli stabilimenti di Novi ex ILVA. Il gruppo sarebbe lo stesso che è già intervenuto per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. Il ministro ha fatto anche sapere che la commissaria europea per la concorrenza ha confermato il prestito ponte da 320 milioni di euro all'ex ILVA a salvaguardia degli impianti e al ripristino della loro attività produttiva. Ma i sindacati nutrono molti dubbi, non sono stati informati di queste visite e non sanno neppure che cosa questo possa significare. Perché così tanta fretta si chiedono dopo mesi di immobilismo? Non siamo d'accordo sul fatto che se si trova qualcuno che vuole comprare possano venire meno i principi fondamentali previsti per le amministrazioni straordinarie riguardanti l'integrità dei complessi aziendali né tantomeno le garanzie sui livelli occupazionali. Non è insomma con gli spot, dicono, che gli impianti ripartono. Servirebbe invece, dicono i sindacati, risorse maggiori e immediate per agire sugli impianti e per mettere in sicurezza i lavoratori e l'ambiente, oltre a far ripartire la discussione sul piano industriale e sulla decarbonizzazione.